Allora, vediamo cosa c'è nella cassa, io mica lo so, oh mamma, oh Dio, oh, sarà una bambola, siamo in periodo natalizio, chiaramente Natale, una bambola. Allora, vediamo cosa c'è. Allora, vediamo cosa c'è. Allora, vediamo. Allora, vediamo. Allora, vediamo. Non rimarrà più niente di questa povera bambola. Allora, vediamo. Dio, 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 Dio. Allora, vediamo. Eh sì. Mi sembra giusto. Allora, vediamo. Basta che scoppia. Bene. Allora, vediamo. Allora. Andiamo. bravo. 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 Bravo, Mariano. Bravo, Gabinano. Bravo. Allora complimenti, brava, bravissima, molto brava, e questo è un numero del suo, ce li presenta lei, Diana? Dunque, Gabina e Mariano, che tra l'altro sono anche i miei cugini, Mariano e mio cugino, sono cugini, e sono cugini di Moira, lui è primo cugino di Moira, bravissimo, è bello sotto il naso, è bello sotto il naso, sì. No, no, sono più bello così. È più bello così. Molto più bello. Dunque abbiamo scoperto prima parlando che questa bella fanciulla che è cecoslovacca dell'origine, era a Mosca quando c'ero anch'io, però io non lo sapevo perché io ero un giornalista, lei aveva sei anni o qualcosa del genere, per nove anni, perché era di una famiglia di circo anche lei? Sì, io sono quinta generazione. Quinta generazione, quindi io in quel circo dove ho visto Popov, forse ho visto i suoi genitori magari. Senz'altro. Ma una cosa molto bellina anche è che questa fanciulla che era così elastica ha avuto un bambino da pochissimi mesi. Oh, perbacca! Allora non ci stava dentro la città. Vogliamo farvi sedere qui? Grazie a tutti.